Universal Pictures ha deciso di anticipare la data di uscita di Super Mario Bros. e film in alcune parti del mondo, tra cui gli Stati Uniti, dove uscirà il 5 aprile invece del 7 aprile inizialmente previsto. La stessa data di uscita è stata confermata per altri 60 paesi del mondo. Il film sarà distribuito in altri mercati tra aprile e maggio e il debutto in Giappone è previsto per il 28 aprile. In Italia, invece, il film uscirà il 6 aprile, ma Universal Pictures Italia potrebbe anticipare la data di uscita in futuro. Il lancio in Nord America resta prioritario considerando le enormi dimensioni del mercato americano, ma il film arriverà poi anche nei principali paesi europei e in Asia, arrivando in Giappone a fine aprile. Il nuovo trailer del film uscirà il 9 marzo in occasione del prossimo evento Nintendo Direct, interamente dedicato al lungometraggio. La campagna di marketing è già iniziata e presto i negozi saranno invasi da giocattoli e merchandising ispirati a Super Mario Bros., il film. Ad esempio, nelle ultime ore, si intravede un possibile pacchetto speciale di Nintendo Switch che potrebbe essere lanciato con i film. Tra meno uno di un mese potremo finalmente tornare nel Regno dei Funghi, anche al cinema. E tu, ci sarai? Grazie per la visione!